Ciao Dodo, oggi rispondo alla tua domanda se vendiamo i Mac che poi cambiamo allora sì, anche se solitamente come tevo già scritto nella risposta prima cerco di vendere quelli aziendali, i nostri interni proprio nello specifico per poi andare a sostituirli con dei Macbook perché abbiamo preferito comunque passare tutti a portatili quindi ovviamente i tecnici e i sistemisti però anche per quanto riguarda le impiegate o comunque i consulenti, tutto portatili perché non si sa mai, è più comodo poi avendo due sedi ci spostiamo da una sede all'altra quindi noi siamo passati da notebook normalmente sì, li teniamo cambiati spesso, vendiamo i nostri ma soprattutto abbiamo tutta una serie di fornitori che ci danno i computer refurbished sempre parlando di Apple nello specifico che sono computer garantiti un anno come quelli che puoi trovare all'Apple Store quando vai a portare un iPhone rotto per dirti e te ne danno un altro, non te lo stanno dando nuovo ma refurbished, è la stessa cosa con un anno di garanzia oppure tutti i ritorni di noleggio perché abbiamo un sacco di clienti con noleggi Apple che quando scadono vogliono fare il revamping delle macchine e allora chi decide di non tenerseli li prendiamo, li formatiamo, li puliamo, li testiamo poi ci sono da dare a altri clienti che vogliono dell'usato quindi se ti serve qualcosa scrivici pure a sales-hkstyle.tech ciao